È il momento finale, il momento che noi dobbiamo vincere, che dobbiamo fare tutti i punti e tutti i punti possibili. Noi siamo molto concentrati, vogliamo vincere tutte le partite e io sento un grande spirito tra noi. Sono tutte le partite difficili, quelli che si devono salvare forse e giocano un po' più con la cattiveria, ma anche quelli che lottano per salire in Serie A sono molto pericolosi per noi, però noi dobbiamo credere sempre in se stessi e dobbiamo credere che noi possiamo fare la differenza e noi siamo la squadra più forte e questo vogliamo mostrare in ogni partita, in ogni momento e questo è l'obiettivo. Non è così importante chi segna e chi fa il gol, l'importante è che noi prendiamo i punti, che vinciamo le partite e saliamo insieme e raggiungiamo il nostro obiettivo che già avevamo all'estate. Quindi questo è l'obiettivo e l'altro forse sono obiettivi personali per noi adesso, per me anche, non sono così importante. Certo che mi dà soddisfazione quando io faccio un gol, però io penso sempre alla squadra prima perché mi dà più soddisfazione se saliamo in Serie A che io faccio un gol e non saliamo. quindi è più importante che noi facciamo bene adesso. Io sono molto molto contento che ho fatto questa scelta, che sono arrivato qua e sì, c'è la soddisfazione e ho fatto tante cose molto buone, però ci sono stati anche i momenti che io non ho fatto le partite bene e io non sono mai contento con me, ci sono sempre le cose da migliorare e questo è sempre l'obiettivo per me, per migliorarmi e per fare il mio progresso e di aiutare più la squadra con la mia personalità. Prima il pensiero è che noi siamo molto delusi, ci dispiace molto che cosa è successo con Jochef, però siamo con lui, stiamo vicini a lui e per noi adesso sì, siamo uno in meno, però noi siamo una squadra forte che può fare sempre la differenza anche con quelli che giocano adesso. Per noi adesso sono fondamentali le prossime partite e sì, va bene, siamo uno in meno in centrocampo, però noi possiamo giocare sempre bene e forse sì, anche se noi giochiamo in tre, in due non fa una differenza perché la squadra è sempre la stessa. Tutti i giocatori, se loro giocano, sono contenti e c'è sempre questa gioia quando si può scendere sul campo e quindi queste sensazioni dobbiamo avere con una squadra ma anche individualmente. Personalmente io mi concentro adesso alle ultime nove partite che sono rimasti e noi dobbiamo vincere tutte le partite e vincere significa noi saliamo in A e questo è un obiettivo per la società, per la squadra, per la piazza Palermo molto importante e questo è l'unica cosa che io sto pensando adesso. Altre cose vediamo che cosa succederà. Una partita molto difficile con una squadra che anche sa giocare, che noi dobbiamo fare una partita molto molto compatti, molto insieme, tutti insieme, però anche che noi sappiamo se noi facciamo bene vinciamo questa partita e deve essere sempre questa fiducia in se stesso di credere alla nostra qualità e così vinciamo a Cosenza, noi dobbiamo pensare a noi e così andiamo avanti. Sinceramente non c'è l'ansia nella nostra squadra perché crediamo molto in ci stessi e siamo sicuri se noi facciamo le nostre partite saliamo in A e noi dobbiamo pensare solo a noi, altre cose, altre squadre che stanno facendo bene non ci deve interessare così tanto perché tutti soffrono, si vede del risultato che tutti non prendono i punti, tipo Verona, Benevento che soffrono e questo per noi è un buon segnale ma anche altre squadre stanno facendo bene però queste sono altre squadre non è Palermo. Siamo due volte fuori casa allora dobbiamo fare sei punti, questo è l'obiettivo e io penso che anche a casa con i nostri tifosi noi ci siamo sentiti sempre bene, sempre forti nel campo. Adesso noi non dobbiamo pensare dove giochiamo, in che piazza o come la squadra noi dobbiamo pensare a cosa sono i nostri obiettivi, com'è l'atteggiamento, com'è la concentrazione e così facciamo i punti e la piazza Palermo merita la Serie A quindi anche i tifosi tutta tutta la città merita questo questa Serie A quindi per noi se loro ci aiutano significa tanto per noi per fare bene in campo e così quando noi siamo tutti uniti, unichi, siamo più forti diciamo e sinceramente facciamo facciamo più bene in campo.